Mi scusi buon uomo? Mi sa dire l'ora per favore? E' 5 e 35 Ma è sicuro? E' 36 Grazie Prego Ha mangiato il ciuchino eh? E' no? Senta, mi sa dire che ora sono adesso? Andro a orta Le 7 e un quarto Ma sono le 7 e un quarto spaccare, incredibile Ma lei come fa a leggere l'ora nelle palle del ciuchino scusi? No io le arzo, sotto c'è il campanile vedi? Già vedi, 7 e un quarto